Ho lavorato per un'azienda italiana, perciò responsabile commerciale, vai prettamente a lavorare con le relazioni con il pubblico. E questo mi ha formato comunque un carattere e un modo di fare nei confronti delle persone abbastanza aperto. Convivo con una persona, donna, ho due bellissime figlie che hanno 13 e 2 anni, Francesca e Fabiana. Mi piace trascorrere molto tempo con loro, mi piace vederle crescere. Sono un mezzo motociclista, diciamo. La mia passione per l'Harley Davidson è nata tantissimi anni fa, dopo tanti anni finalmente sono riuscito a possederne una. Io quando ho un problema, ho una sensazione strana su di me, salgo sulla moto e hai un modo di ragionare e di vedere le cose completamente lucido. Asi ha cambiato la mia vita, ormai quasi due anni fa. Un'esperienza incredibile, persone che lavorano unite come una famiglia, non come scopo principale il denaro, bensì come scopo principale la soddisfazione e lo far star bene alle altre persone. Il primo pensiero che mi viene in mente è sicuramente aiutare almeno una persona, far crescere una persona, condividere con questa persona delle opportunità, un modo nuovo di vivere. Questo lavoro, per chi si dà veramente da fare, lo fa in modo etico e professionale, dà veramente dei grandi risultati. Sono Fabrizio Guazzone, amo la mia famiglia, la mia compagna e le mie bimbe, sono un amante dell'Arre Davidson e io sono a Sier.